E' arrivato il momento di dire basta e fermare le stragi. E' una marcia silenziosa sulla spiaggia, teatro del naufragio a stecato di Cutro, quella che più di una cinquantina di associazioni di tutta Italia, tra queste anche Caritas Italiana, promuovono ad una settimana di distanza dalla tragedia in cui hanno perso la vita più di 70 migranti. Quella andata in scena sulle coste della Calabria è solo l'ultima di una lunghissima serie di tragedie che si dovevano e si potevano evitare, scrivano le associazioni. Le persone che partono dalla Turchia, dalla Libia o dalla Tunisia sono obbligate a farlo rischiando la vita a causa dell'assenza di canali sicuri e legali di accesso al territorio europeo. Se le persone morte nel mare davanti a Cutro avessero potuto chiedere e ottenere un visto umanitario non avrebbero rischiato la propria vita. Se ci fosse stato un programma di ricerca e salvataggio europeo o italiano continuano le associazioni, quel terribile naufragio si sarebbe potuto evitare. Per questo la marcia silenziosa è un modo per sostenere quelle richieste più volte presentate ma mai ascoltate. Tra queste l'istituzione dei cosiddetti corridoi umanitari e comunque quei canali regolari di ingresso. A ribadire la necessità di una visione europea per risolvere il problema anche il Presidente dei Vescovi italiani. Dobbiamo affrontare in maniera più... con un sistema e questo non può essere soltanto un problema italiano un problema tuttanto all'Europa e poi bisogna operare delle scelte delle scelte non contingenti non legate all'emersione di problemi il problema dell'immigrazione è un problema che già affrontiamo da più di 30 anni si presume che non è che finisce quest'anno e quindi a maggior ragione è indispensabile fare di questa ennesima tragedia una consapevolezza di trovare delle risposte adeguate sia per quanto riguarda l'Italia che deve fare la sua parte e sia l'Europa che deve fare la sua parte e aiutare l'Italia a fare la sua parte. Grazie 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 Grazie